Il consigliere Armando Castorina sollecita interventi nella frazione di Santa Maria la Strada. Castorina ha scritto al sindaco, alla dirigente dell'ufficio tecnico, per chiedere il ripristino delle condizioni di sicurezza nella piazza ove i rami delle palme cadendo avrebbero causato danni al chiosco e alle auto posteggiate vicino alle stesse palme. Il consigliere ha chiesto la protatura di queste palme per evitare danni che potrebbero essere anche più gravi. Un'ulteriore richiesta per la frazione presentata dal consigliere riguarda invece la pubblica illuminazione di Via Ruggero I nel tratto compreso tra il Civico I e la Chiesa. Nelle scorse settimane, su richiesta dei residenti, Castorina si era fatto promotore presso l'ufficio tecnico del ripristino della pubblica illuminazione in questo tratto. Un intervento che non è stato risolutivo visto che permangono cinque lampioni o privi di illuminazione o di boccia o con la boccia deformata. Il consigliere ha chiesto all'ufficio tecnico di provvedere non appena la situazione finanziaria del Comune lo consentirà.